tante volte mi arrivano delle richieste di consulenza con questo tipo di domanda posso chiedere risarcimento danni non mi hanno iniziato le opere posso chiedere risarcimento danni oppure oppure le opere non sono mai iniziate posso risolvere il contratto io ti dico sì tu il contratto lo puoi risolvere sempre tu lo puoi fare oggi risolvere domani mattina tu uno magari ti fa ti inizia le opere sta facendo bene ma tu il giorno dopo lo puoi risolvere il contratto non c'è nessun problema potere puoi ma bisogna valutare quali sono le conseguenze bisogna valutare se ti conviene oppure no bisogna valutare se è la strada più giusta quella di risolvere il contratto in tutte le situazioni la risoluzione del contratto a volte è un passaggio obbligatorio ma è sicuramente la conseguenza di tutto ragionamento fatto molto bene a volte non è quella la strada giusta ok non è quella strada giusta bisogna controllare bene le carte bisogna controllare bene le circostanze bisogna controllare bene il contesto ok per esempio se a novembre mi viene uno e mi dice l'impresa ha fatto i lavori al 50 per cento e sei mesi che non la vedo più mi conviene cambiare impresa e risolvere il contratto io dico ma dipende perché la riesce se l'hai già un'altra impresa riesce se l'hai già un'altra impresa che alle stesse condizioni ti completa le opere se la risposta è beh no beh ma proprio più o meno forse dico attenzione di risolverlo adesso il contratto ok anche perché noi dobbiamo aspettare magari il 31 dicembre se nel contratto è scritto il 31 dicembre poi parliamo anche di cosa succede in quei contratti allucinati non c'è neanche scritto qual è entro quando si termineranno le opere ma magari spero di non dimenticarmi te lo dico più avanti allora mancano due mesi c'è scritto entro il 31 dicembre io finisco le opere sono ancora a metà ho un'impresa che me le può finire ti dico ok posso risolvere il contratto ma abbiamo tanti passaggi da fare prima prima è sicuramente quello di sentire l'impresa accertarsi che loro vogliono completare le opere le stesse condizioni cosa vuol dire completare le opere le stesse condizioni significa che se il precedente ti faceva lo sconto in fattura senza dover mettere vicino niente questi qua lo fanno quello di prima ti faceva il cappotto il tetto il fotovoltaico le finestre le pompe di calore i termosifoni la colonnina questo ti fa gli stessi lavori ma non perché non vada bene che magari ti faccia qualcosa di diverso ma dobbiamo essere sicuri di una decisione che prendiamo poi se le condizioni non sono le stesse ma sono diverse ti va bene perché se lui ti dice mi devi dare 30 40 50 mila euro per finirti le opere vi hai questi soldi li riusciamo ad avere in prestito abbiamo una banca o un parente che ci mette a disposizione insomma se tu non li hai valutiamo le queste cose poi cosa facciamo risolviamo il contratto e dopo andiamo di là di ok comincia è pericoloso perché se questo dice no ho cambiato idea hai risolto il contratto di qua di là non ti fanno niente non può più andare a bussare le porte quello di prima perché lui è contento di aver risolto il contratto con te e non torna indietro se ti aveva abbandonato il cantile sei mesi fa allora cosa facciamo dobbiamo almeno fare un contratto per un contratto d'appalto condizionato al fatto che prima faccio la risoluzione con l'altro gliela vendiamo dicendogli che nel suo interesse però cerchiamo di ottenere questa cosa qui ok poi 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 i tecnici che abbiamo come tecnico i tecnici sono tutti quanti del general contractor e a te non hanno dato una carta quei tecnici sono d'accordo di lavorare con il general contractor nuovo ma il general contractor nuovo non è che magari ti impone i suoi tecnici ma non ci sono le carte se tu non hai le severazioni precedenti devi prenderli dalla richiesta insomma diventa un po più complicato sono tante cose da valutare prima di dire risolvo il contratto ok altra chicca questa qua è un po il frutto delle esperienze uno di quelle diciamo di quelli che normalmente noi avvocati chiamiamo assine la manica o no a uo come lo vogliamo chiamare ma io te lo condivido allo stesso con te perché voglio darti informazione voglio insegnarti delle cose dei trucchetti senti qua allora oggi è siamo intorno al 10 di novembre mi rendo conto che il general contractor non mi ha completato le opere però io è evidente so benissimo che non me le può completare entro la fine del contratto entro il 31 dicembre voglio risolvere il contratto ovviamente la prima risposta che ti può dare un avvocato e che anch'io ti darei ti darei è ciò non possiamo mica noi risolvere il contratto perché lui ha tempo fino al 31 dicembre per concludere le opere quindi ne parliamo il primo gennaio ma mi è venuta un'idea e dico ma se io prendo un architetto un ingegnere un tecnico abilitato e mi faccio mettere una clausola mi faccio fare una perizia nella quale dice tecnicamente tu non puoi completare le opere posso fare subito la risoluzione del contratto me la certificata e io risolvo il contratto quindi l'azienda non può dire avevo tempo ma non puoi completare le opere sarai sicuramente inadempiente e quindi lo posso risolvere questa è una grande chicca che ti do vale molto ok quindi alla domanda posso risolvere il contratto risposta è sì ma sai quanta roba prima dobbiamo valutare per vedere se effettivamente ti conviene fare la risoluzione del contratto adesso se ci sono i presupposti oppure è meglio magari fare la risoluzione ma sapere già cosa voglio fare dopo perché ricordiamoci sempre che dietro ad una risoluzione del contratto per inadempimento io posso avere una pretesa di risarcimento danni quindi le cose però bisogna farle bene bisogna fare in maniera giusta bisogna anche tentare di dimostrare di aver fatto tutto per mettere in condizione l'altro di adempere o meglio di fare tutto il possibile per cercare di anche cercare di capire perché controparte non viene a farmi le opere sei sicuro che dietro la scusa della monetizzazione del credito e non credere a chi ti dice che non riesce a monetizzare perché non è più così se deve monetizzare gli tirano il collo perché gli tirano il collo e portano a casa il 70 per cento su 110 è vero vengono fatte delle cessioni monetizzazioni vergognose da usura finché vuoi ma se tu sei ingordo è chiaro che non monetizzerai mai al 102 per cento come era all'inizio ma se ti accontenti per finire le opere non ti conviene lo so general contractor che non ti conviene ma finisci i cantieri finisci i cantieri evita le cause e fai in modo che la gente abbia le opere svolte chiaro se c'è bisogno general contractor vai a dirgli che se ne fanno meno di opere raggiungiamo le due classi energetiche e tu committente accetta e incartatela perché il 110 poi alla fine con i governi i governi che non lo hanno apprezzato lo hanno distrutto però bisogna dare un colpo al cerchio ed una botte questo sicuramente quindi il contratto lo risolvo sì ma vediamo come seguimi sui miei canali sui social campanellina mettimi piace iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video